buongiorno a tutti e benvenuti alla four wheel drive italia academy oggi parliamo di un aspetto abbastanza tecnico questa che vedete è una coppia conica sostanzialmente quella che dà i rapporti della vettura e questa attaccata differenziale questo il pignone diciamo il numero di denti e il rapporto tra quelli della corona e quelli del pignone determina il rapporto questo è un aspetto che noi prendiamo molto in considerazione nel momento in cui andiamo a installare dei pneumatici maggiorati perché diversamente i rapporti sarebbero troppo lunghi nel caso di un cambio manuale si perde una volta anche due marce mentre nel caso di un cambio automatico il cambio va molto sotto stress è una modifica molto importante per fare una preparazione come si deve a seconda della misura di pneumatico si sceglie il rapporto più corretto qui per esempio abbiamo un wrangler tj che ha montato i pneumatici da da 33 per 12 e mezzo e 15 comunque da 33 e questa coppia conica una 456 è un lavoro abbastanza dedicato serve c'è una competenza specifica su questo e sinceramente quello che dico sempre il vero meccanico lo si distingue senza fare le coppie coniche i cambi quello che distingue diciamo un meccanico da un girabulloni noi questa modifica la facciamo su tutti i modelli di wrangler e la consigliamo vivamente ai nostri clienti se sei interessato ad avere informazioni su questo tipo di modifica sono a vostra sono a tua disposizione il mio recapito whatsapp è 338 73 12 725 5 5 6 6 6